negli anni sessanta la sfida canora veniva alla radio oggi è un evento televisivo tra i più attenti decennio per decennio la storia i segreti i successi del festival della canzone più famoso d'italia ha fatto buona caccia signora ottima guardi questo credo sia uno dei migliori perché sanremo fronte retro da lunedì 15 a sabato 20 febbraio ore 13 30 rai storia